Senatore Latorre ad Avellino per supportare la campagna elettorale di Paolo Foti, ha avuto parole pungenti per l'ex sindaco PD di Avellino Giuseppe Calasso? Mi pare abbastanza chiaro che è un'espressione tipica di quel trasformismo delle classi dirigenti meridionali che tanto male ha fatto alla politica del mezzogiorno. Con Paolo Foti abbiamo messo in campo un progetto per aprire una nuova stagione di cambiamento e di rinascita e di risveglio anche culturale di una città così importante che ha avuto una storia democratica così rilevante e che può tornare a dire la sua anche oltre i confini di questa città. E' importante per il centro-sinistra e per il PD fare bene ad Avellino perché nell'attuale quadro di governo e parlamentare è chiaro che un risultato forte di Avellino incoraggerà le forze che assumono il tema del mezzogiorno come la grande partita strategica per il futuro del Paese.